Odoardi, la CNA è molto critica su quello che sta accadendo a Pescara per quanto riguarda i parcheggi a pagamento che sono stati inaugurati proprio negli ultimi giorni in città, in varie zone, in vari quartieri. Perché siete così critici? In questa situazione già difficile, come abbiamo già detto anche in un incontro che abbiamo avuto, non ci sembrava il caso di far cassa proprio su questo tema. I negozi e comunque le attività già sono stressate e quindi hanno difficoltà. I cittadini adesso dovranno pagare addirittura per parcheggiare sotto casa. Oltretutto in alcune zone della città davvero risulta incredibile l'aumento o comunque la spesa. Ci sono delle zone periferiche dove l'abbonamento giornaliero costa 5 euro rispetto a quella alla stazione che costa 2,50 euro. Noi dovremmo stimolare l'accesso in città con i mezzi diversi, quindi dovremmo stimolare a parcheggiare fuori dalla città e dovrebbe costare meno, anzi dovrebbe essere gratis fuori dalla città. Oppure quello che è accaduto ci dicono svolta green e poi la macchina ibrida l'anno scorso pagava 60 euro annuali per parcheggiare su tutto il territorio, era una misura che serviva a stimolare l'utilizzo di macchine ibride e quest'anno siamo arrivati a 324 euro l'anno, cioè da 60 a 324. Sinceramente ci pare un metodo per carità anche legittimo di fare cassa, ma crediamo che non sia nel momento storico e tantomeno anche una serie di zone utilizzate che siano adeguate ad essere poste a pagamento. Non ultima la questione dei parcheggi su via Polino e comunque intorno all'ospedale. C'è gente che ha difficoltà magari anche a trovare situazioni, paradossalmente il parcheggio dentro l'ospedale costa meno dei parcheggi lungo la strada e quello è pure custodito. Sinceramente davvero troviamo un pochettino di schizofrenia in questa situazione sui parcheggi a Pescara. Ci sono anche polemiche poi per i parcheggi a pagamento che riguardano le riviere, ci avviciniamo alla stagione estiva? Dubbiamente è un ulteriore balzello che peserà sia sul turista, sia su chi viene spot, ma anche sui residenti di determinate zone. Quindi in questa maniera praticamente abbiamo coperto il 100% del territorio di Pescara. Vogliamo dire che si paga su tutto il territorio, si paga anche in maniera abbastanza bizzarra, perché è dove si paga un euro, dove si paga 50 centesimi, cioè sinceramente non si riesce davvero a capire. Quella del lungomare è chiaro che è un'ulteriore mazzata al turismo di questa città. Grazie. Grazie.